siamo con il dottor siliano stanganini amministratore delegato di centria la società di estra spf si occupa di vettoriamento e distribuzione gas naturale della distribuzione vendita di gpl benvenuto grazie e dottor stanganini centria conta 6.000 km di reti di proprietà per circa 400.000 clienti finali e si posiziona come uno dei principali operatori del settore nel centro italia nella vostra attività che ruolo ha la collaborazione e l'impegno con il comitato italiano gas e quanto è importante la vostra presenza al forum per rilanciare la vostra linea di azione nel settore si grazie di questa domanda perché ci permette anche di condividere il molle motivazioni per cui collaboriamo con con ciega e la visione quella che ci unisce non è solamente l'iscrizione utilitaria una visione che è puntata una ricerca di standard sempre più elevati nella sicurezza nell'affidabilità nella continuità del servizio insieme al cica affrontiamo tavoli con enti di controllo in quanto noi lavoriamo con sostanze altamente infiammabili pertanto pericolose con normative molto restrittive poter essere al tavolo con ciega e con gli enti di controllo ci permette di capire le reali motivazioni delle normative ma anche di rispettarle perché il nostro principale obiettivo nello stesso tempo ci ci permette di confrontarci con aziende del nostro settore quindi condividere esperienza perché l'obiettivo è sempre quello di avere un miglioramento continuo la prima giornata di forum CIG è notoriamente e naturalmente focalizzata sull'importanza della sicurezza nell'utilizzo del gas nel sistema gas nazionale dati numeri dati e numeri alla mano la sicurezza grava più come costo o può essere sostenibile come investimento allora devo spendere due parole sull'origine della nostra azienda l'azienda è nata dall'aggregazione di tre territori che sono siena arezzo e prato quindi con tre modalità operative procedure differenti esperienze differenti ma anche contractors differenti quindi noi ci aspettavamo che la sicurezza fosse uno degli argomenti da coltivare abbiamo subito iniziato mettendo sistemi di gestione abbiamo raggiunto la certificazione 45.000 adesso che vuol dire sulla sicurezza abbiamo anche fatto il profilo di quelle che sono le professionalità certificandole però il livello degli eventi indesiderati cioè degli infortuni era sempre abbastanza abbastanza elevato quindi abbiamo puntato molto sul capire le motivazioni e facendo l'analisi delle cause delle radici abbiamo visto che la maggior parte degli eventi hanno legato al fattore umano quindi abbiamo incominciato a fare formazione non solamente tecnica ma anche in quelle che si chiamano le soft skill e questo ovviamente ha portato molti vantaggi ovviamente anche investimenti però vantaggi per quanto riguarda aggregazione riscrittura delle procedure quindi omogenizzando tutti i tre territori con un vantaggio enorme che è quello di creare uno spirito di appartenenza all'azienda ma anche uno spirito di collaborazione fra i vari lavoratori tanto per dare dei numeri visto che lei parla di investimento o di in qualche modo impegno nel 2018 noi avevamo 642 giornate perse per infortuni nel 2021 ne abbiamo 18 questi numeri ovviamente sono molto importanti per noi perché ci permettono dire che la visione che abbiamo avuto l'impegno anche economico ma soprattutto di ore dedicate alla formazione e alle attività e le iniziative di sì della sicurezza hanno portato i loro profitti immaginatevi in un momento della pandemia noi siamo stati in grado di garantire il servizio sia l'efficienza ma anche l'affidabilità questo secondo me nasce proprio da quello spirito di appartenenza che siamo riusciti a creare e poi i numeri parlano da soli sono stati degli investimenti che hanno portato degli ottimi profitti una business continuity a tutti i livelli e più tutti i vantaggi da un punto di vista della sicurezza che riusciamo ad individuare come de massima linea il più bassi minor ricorso agli straordinari minor ricorso all'esternalizzazione delle attività io direi che chi investe nella sicurezza avrà dei profitti non sono immediati questo sì lo devo riconoscere ma la visione di chi è dentro questi argomenti di chi vede la salute delle persone come un valore è sicuramente appagata sia in termini di riconoscimento di etica nel lavoro ma anche in termini economici con i numeri che vi ho appena elencato. Ringraziamo il dottor Stanganini ringraziamo Centria e vi diamo appuntamento al 16 giugno con il forum Unicig. Grazie a voi di questa opportunità ancora una volta. Grazie a voi.